Successo a Roma per i violinisti in jeans, in tour con lo spettacolo Pantarei, che ha fatto tappa al Teatro Parioli. Il servizio è di Virginia Volpe. Vestano davvero in jeans questi violinisti catanesi e in più indossano una giacca di tagliate. Il duo musicale che libera la musica classica dagli schemi torna in Italia dopo il successo di Dubai. Ci sembrava tutto finto, c'era un palcoscenico circondato da grandi grattacieli per cui abbiamo perso un pochettino la condizione umana, sembravamo troppo piccoli. Angelo Di Guardo e Antonio Macri possono vantare 30 anni di sodalizio artistico. Nei loro concerti i generi si mescolano, dal country al blues, passando per il pop. Noi abbiamo avuto questa idea tantissimi anni fa nel mettere assieme tutti questi generi musicali. Noi abbiamo avuto questa idea tantissimi anni fa nel mettere assieme tutti questi giorni.